Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano poche nuvole sull'Italia, però le regioni settentrionali iniziano a essere lambite da alcuni sistemi nuvolosi atlantici e così il nord nei prossimi giorni vedrà anche arrivare aria leggermente più fresca, perché arrivano dei temporali, cominciamo da quelli previsti per la giornata odierna, giovedì, temporali principalmente al nord-est verso sera, lambita anche la Lombardia centro-orientale. Venerdì stessa situazione ma con qualche temporale in più, sempre più che altro verso sera, temporali che potrebbero interessare a quel punto anche il Piemonte e arrivare fino in Emilia a fine giornata. E anche sabato giornata a tratti un po' instabile, stavolta soprattutto nelle zone interne dell'Italia centrale e ancora sulle regioni di nord-est. E questa serie di temporali, che poi saranno tutti di breve durata e sia chiaro, porteranno per aria leggermente più fresca e così già per questo venerdì temperature in leggera diminuzione al nord, comunque farà caldo, per carità, però al nord si respira un po' di più, al centro-sud invece giornata ancora bollente, sabato però rinfresca nell'Italia centrale e domenica anche su parte del sud di arrivare a leggermente più sopportabile. Chiudo con la prossima settimana che, attenzione, vedrò una nuova rimonta dell'alta pressione nord-africana, quindi nuova settimana ancora all'insegna del gran caldo. Ma per i dettagli sulle vostre località, aggiornato scaricate l'app di Trebi Meteo.